Donna Massimiliano De Luca, il sacerdote delle periferie difficili da Fontanelle a Rancitelli, ribadisce il suo grido d'allarme denunciando l'assenza totale delle istituzioni. Lo aveva fatto tante anni fa quando era parroco di Fontanelle, denunciando proprio dai microfoni della nostra trasmissione in cronaca l'assoluta mancanza delle istituzioni in un quartiere allo sbando, preda di regrado e criminalità. Torno a farlo a distanza di anni ora che parroco della Chiesa degli Angeli Custodi in un altro quartiere difficile, quello di Rancitelli, all'indomani dell'aggressione ad una truppa della RAI all'interno della cortile del cosiddetto ferro di cavallo. Una serie di problematiche che hanno fatto sì che Rancitelli, questo quartiere, si fosse trasformato nel corso degli anni in una discarica sociale. Io vorrei una risposta da chi è di dovere, il perché qui ci deve essere questo male necessario, qual è quello dello spaccio della droga, qual è quello dell'usura, qual è quello della povertà dilagante, qual è quello dell'abbandono scolastico, perché è un male necessario. Perché in una città ci deve essere una valvola di sfogo e questa a Pescara deve essere Rancitelli. Io vorrei una risposta a questa domanda. Coloro che hanno creato negli anni 50-60 questo quartiere, che era una zona assolutamente di campagna, che era tra Villa del Fuoco e la zona della fortezza botonica, qua c'era tutta campagna, sono venuti dalle montagne ad abitare in questa zona, una zona in cui c'era un periodo di effervescenza a livello lavorativo, a livello economico, ma poi c'è stato il ricambio generazionale perché i nipoti non sono venuti ad abitarne le case dei nonni, soprattutto per quella situazione di degrado che si era venuta a creare nel corso degli ultimi anni. Le agenzie immobiliari qui non prendono più case in carico per la vendita perché non si vendono gli appartamenti a Rancitelli. La quotazione è del 30% in meno nei confronti del resto della città. Questo è il fallimento totale del piano regolatore. Quando in un palazzo abitato da spacciatori non si trova più il portone, non è semplice vandalismo, è la bottega che deve essere sempre aperta e il cliente deve poter entrare liberamente. Queste sono cose che sono benissimo quelle che ci abitano, ma anche gli amministratori devono imparare a leggere questo territorio e ad affrontare i problemi di questo territorio. Noi cosa vogliamo? Semplicemente abitare in un quartiere normale dove possiamo trovare tutto quello che trovano anche quelli degli altri quartieri.